Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. In questo video torniamo a parlare di giovani calciatori che sono appena approdati in Italia. In questo caso parliamo di un danese che negli scorsi giorni ha firmato per l'Inter. Prima però di andare in dettagli, vi raccomando sempre di iscrivervi al canale, di lasciare un like al video, di attivare la campagna in grigia delle notifiche, così rimarrete aggiornati sui miei prossimi video, ovviamente sull'attività del canale. A voi non costa niente, a me invece, per me vuol dire veramente tanto. Vi raccomando anche di iscrivervi al mio secondo canale, Inside Football, che parla, che riguarda la Serie A, il calcio italiano e anche il calcio mercato ovviamente, ma in lingua inglese. Quindi se siete ferrati sulla lingua, dateci comunque uno sguardo e iscrivetevi al canale, un progetto appena partito, che però conto di portare avanti e di far crescere il più possibile. Tornando a noi, parliamo di Silas Andersen, centrocampista centrale, classe 2004, che l'Inter ha prelevato dal Copenhagen, dalla formazione Under-19 del Copenhagen, sebbene il giocatore sia stato in forza maggiormente, con la formazione Under-17, con l'Under-19, ha giocato 5-6 partite in campionato, quindi neanche tanto, ma ripeto, in 2004, a giugno ha compiuto 17 anni, quindi ha grandi margini di miglioramento, un centrocampista centrale di 185 centimetri, che appunto ha firmato con l'Inter. La prima domanda che mi viene è in relazione alla curiosità di come giocherà, con che modo giocherà Christian Kivu, perché Madonna optava per un 3-5-2. Ora, vediamo un pochino il buon Kivu, su quale modulo si andrà a dirottare Silas Andersen, come vi dicevo, 105 centimetri, centrocampista centrale, con ottime doti difensive, buon ritmo di gioco, discreti cambi campo, e ci si potrebbe lavorare eventualmente come box to box, sebbene che predilige l'inserimento piuttosto che la dinamicità, nel senso che non è un giocatore che è un box to box che ti fa su e giù, su e giù, su e giù, perché non ha una fisicità, non ha delle capacità aerobiche che gli permettono di fare certi movimenti con una certa frequenza. Penso che è un giocatore molto intelligente, ha bene interpretare il ruolo, con una muscolatura longelina, ha grandi falcate, che però sa farsi trovare pronto. Non è una scheggia, ma sa farsi trovare pronto. Un prospetto sicuramente interessante è che nel 2020, esordito con la formazione, nel 17, anche della Danimarca, quindi un profilo internazionale, anche se a livello giovanile, molti sostengono un giocatore che si deve completare. Sicuramente un giocatore che si andrà a riempire a livello fisico, che andrà a affinare in Italia anche le sue doti tecniche, le sue doti tattiche, per l'amor di Dio, ma non sono d'accordo sul fatto che debba ancora formarsi come calciatore, nel senso che le sue doti sono quelle, le sue attitudini personali e mentali sono quelle, un giocatore che si basa molto sulle qualità difensive, discretamente in impostazione, ma comunque di base a una fisicità, diciamo che è adatta al gioco difensivo, ma anche quando riceve palla, anche in protezione, palla, no? E' anche rivolta alla fase di ripartenza, per l'amor di Dio. Poi c'è anche un discreto piede, lui un destro di piede, sa concludere anche a rete, però, ripeto, le caratteristiche di base sono quelle lì. Un giocatore che, secondo me, si riesce a lavorare anche dal punto di vista di rapidità, riempiendosi magari muscolarmente e affinando le doti tattiche, è un classico giocatore che può tranquillamente fare anche il centrale di difesa. Vi faccio un esempio, Christensen, il giocatore del Chelsea, della nazionale danese, è partito come centrocampista centrale, poi pian piano arretrato, perché comunque anche Christensen, che secondo me in parte, forse Silas Anderson è un po' più di inserimento, Christensen è un po' più difensivo puro, però in base, si assomigliano discretamente come tipologia di giocatore. Giocatori intelligenti, discreti con i piedi, magari Silas Anderson è un po' più centrocampista centrale, che all'occorrenza può giocare anche dietro. Un esempio nel campionato italiano può essere, ad esempio, Christante, no? Un giocatore che magari può essere arretrato nella lì difensiva 3, da vedere se è più come centrale o più come centrale di destra o centrale di sinistra, perché magari non ha quel guizzo in più, quella guita in più, però, ripeto, è un giocatore molto giovane che deve riempirsi fisicamente e può sicuramente crescere un classico numero 8, un classico numero 8 che potrebbe diventare un 4, anzi, non è più un 4 che un 8. Se non erro, l'operazione è stata portata avanti da Luca Riatti come intermediario, e quindi, secondo me, ci hanno visto discretamente. Poi, per l'amor di Dio, ripeto, quando si tratta di giovani è sempre lì il discorso, bisogna vedere come il giocatore si adatta alla società, al cambio di mentalità. L'Inter aveva Olsen, se non erro, sì, Olsen si chiamava, un centrocampista centrale, che potrebbe fare anche il trequartista, ma di base è centrocampista centrale, che però, nonostante fosse stato incensato all'inizio, quando era veramente giovane, poi si è perso. Quindi, deve essere avviato un processo, sicuramente troverà spazio, perché comunque l'Inter è piena di giocatori, di centrocampisti centrali, classe 2002, quindi che in questa stagione diverrebbero di fuori quota, perché entro nel loro ventesimo anno d'età, quindi 2021-2022. Allora cominciano ad essere fuori quota, Wieser, Mirarchi, squizzato se non erro, quindi un discorso che potrebbero essere ceduti in prestito, magari puntare su un giocatore che si troverebbe la prima annata di primavera, come Silas Andersen, e pian piano inserirlo, speriamo che faccia, diciamo, il percorso che sta facendo anche a Skilsen, anche sui norvegesi, della Sampdoria, che comunque ha già esordito in Serie A, ed è cercato già da qualche squadra di bassa Serie A, o comunque in Serie B. sicuramente dei profili interessanti, sia a Skilsen che appunto Silas Andersen. Questo video appunto è stato realizzato, l'ho realizzato per rendervi un pochino partecipi delle informazioni di questo profilo, nel senso, quindi per farvi conoscere un po' di più, questo giovane ragazzo, scuola, Copenaghen, ah, da dire anche una cosa, che lui può giocare sia in un 4-4-2, che sicuramente in un 3-5-2, e questo perché? Perché lui, nell'anno del 17, nell'anno del 19 del Copenaghen, ha giocato in entrambi i ruoli, quindi in un centrale di sinistra, con compiti difensivi in un 4-4-2, e come mezzala di sinistra, sebbene lui sia a destra di piede, in un 3-5-2, perché comunque Norregard, anzi, diciamola la danese, Yelte Norgord, ha usato questi vari schemi, con l'anno del 19, in più l'anno del 17, comunque ha giocato prettamente in un 4-4-2, con Norregord, invece, l'ha plasmato in questo più ruolo, quindi secondo me, ottima scelta da parte del centrocampista danese, classe 80-81, da memoria, a volte. mi sfarfalla. Ovviamente, se il video vi è piaciuto, iscrivete al canale, mi piace, campanellina, iscrivetevi al secondo canale, Inset Football. Vi mando un abbraccione, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.